Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari mercati finanziari che sono decisamente in crisi, decisamente in ribasso, ma questo lo sapevamo, ce lo aspettavamo e non sarà certo diverso da qui ai prossimi immediati futuri, anche se questa settimana potrà essere un piccolo scossone forse non in positivo ulteriormente perché usciranno i dati sull'inflazione americana ma questo giovedì e quindi anche qui vedremo un po' quello che succederà però di certo i dati che ci si aspetta non sembrano essere estremamente positivi a gettare un po' di benzina sul fuoco oltre a tutta la situazione geopolitica estremamente complessa ci pensa ogni tanto anche Michael Berry, ricordate The Big Short con i suoi tweet criptici che poi sono molto interessanti perché soprattutto sono fugaci perché Michael Berry cosa fa? twitta, lascia i suoi tweet per pochissimo tempo online e poi dopo di che li cancella infatti è sempre interessante seguire il suo profilo però perché è interessante? diciamo allora è interessante che innanzitutto spero che qua si vede qualcosa poi comunque ne parliamo e ne discutiamo abbondantemente nel frattempo però prima di partire con questo vi ricordo di iscrivervi al canale youtube per rimanere sempre aggiornati e cliccate sulla campanellina così in questo modo mi aiuta a sostenere il canale capisco che lo sfondo è poco professionale mi trovo in una situazione un po' di precarietà nei vari spostamenti all'interno della mia casa in questo momento quindi sono ospite nella camera di mio figlio per così dire e quindi certo lo sfondo non è esattamente professionale ma poco importa importa un po' il contenuto non certo quello che vedete alle mie spalle quindi dicevo Michael Berry che comincia a buttare un po' di benzina sul fuoco innanzitutto vabbè continua a sparare contro la Fed ma d'altra parte nessuno può dargli torto come avevo già messo nel commento sul canale Telegram ma la cosa interessante diciamo che ha pubblicato Michael Berry in uno dei suoi ultimi tweet è stato proprio questa sua analisi su alcune compagnie lui dice 29 compagnie ma in realtà poi dopo c'è un esercizio che potete fare molto molto semplicemente anche da soli dice 30 compagnie hanno una market cap superiore a 10 billions 10 billions quindi la market cap cioè il valore di mercato è superiore ai 10 billions ma non è BDTA inferiore ai 100 milioni quindi significa che sono messo abbastanza male quindi dicevo tutta questa roba qua è ridicola cioè queste compagnie devono sparire secondo lui cioè non hanno alcun senso questo è un riassunto del twitter questo non è il vero profilo twitter di Michael Berry ma che il profilo twitter di Michael Berry è questo qua Cassandra BC che lui diciamo gestisce in prima persona e che poi cancella spesso come vi dicevo prima ma la cosa interessante è stata cosa andare a fare un po' un esercizio proprio utilizzando quei dati che lo stesso Michael Berry ci ha mostrato e quindi sono andato a fare appunto questo esercizio sono andato a prendermi da uno screener potete utilizzare Yahoo Finance per esempio o altri screener dove sono andato a cercare di capire quali sono le aziende aziende sul mercato americano che hanno una market cap superiore ai 10 miliardi di dollari quindi aziende abbastanza grandi ma che hanno un BDTA piuttosto scadente e quindi è uscito fuori una lista insomma abbastanza corposa che non è solo di 29 aziende sono un pochino di più io ne ho trovate circa una sessantina ma poi bisogna capire ovviamente al di là di questi due parametri poi bisogna andare dentro per ogni singola azienda cercare di capire effettivamente diciamo quanto questa azienda sia poco sana o meno però ci sono nomi interessanti allora andiamo a vedere per esempio c'è l'Air China Limited che anche questa ce ne sono due versioni tra l'altro dell'Air China Limited poi per esempio vediamo un po' ci sono gli aeroporti della Thailandia poi c'è la Chewi quindi azienda che fa automobilismo se non ricordo male Automotive Li Auto poi abbiamo MongoDB questo lo conosciamo chi si occupa anche di informatica poi c'è la Siemens Games ma quello che ci interessa è vedere alcune aziende che conosciamo molto bene quindi Cloudflare Cloudflare che è un'azienda molto molto conosciuta soprattutto estremamente volatile Nio, la stessa Nio e poi Palantir ovviamente poi Plug Power altra azienda estremamente interessante Roblox ne abbiamo parlato più volte nel passato abbiamo seguito la sua IPO nell'anno scorso se non ricordo male un anno e mezzo fa forse poi Royal Caribbean poi c'è la Sea Limited che è questa azienda che abbiamo già visto SeaGen Shopify guardate Shopify Snap Snowflake aziende abbastanza insomma Uber la stessa Uber insomma aziende abbastanza particolari se volete che abbiamo più volte analizzato nel corso dei mesi e abbiamo anche cercato di individuare come possibili come possibile diciamo opportunità o meno poi andremo a vederle un pochino queste aziende anche da un punto di vista dell'analisi tecnica adesso veniamo al grafico perché il grafico ci sta dicendo ovviamente che i mercati hanno decisamente preso la discesa verso la zona diciamo più diretta per il momento il primo target di questa dicesa c'erano circa 10.300 se guardiamo il Nasdaq qui vi ricordate avevamo fatto a suo tempo qualche giorno fa un'analisi proprio sul settimanale in cui vi avevo detto occhio vi ricordate questo togliamo magari questo quadratino qua un pochino lo allarghiamo così anche questo perché copre una candela che è molto importante togliamola un pochino indietro facciamo un po' di pulizia ecco qua non questo ma questo ok perfetto ok questa candela settimanale quella della scorsa settimana ricordate che a un certo punto era arrivata qui aveva coperto completamente la candela rossa c'era stato un rimbalzo e io ho detto occhio a questa candela perché potrebbe essere fasulla nel senso se effettivamente chiuderà la settimana sopra riassorbendo completamente questa candela rossa allora potremmo avere una speranza uno spiraio di rimbalzo magari rimbalzo di breve termine ma di un rimbalzo che potesse portare un po' di respiro altrimenti se venerdì la chiudiamo sotto questa candela qua così come è stato alla fine perché guardate ha riassorbito tutto il guadagno infatti siamo andati giù pesantemente chiudendo proprio vicino alla candela precedente e questo significa che a questo punto guardando anche come si sta profilando diciamo la candela settimanale di questa settimana che abbiamo finalmente rotto il suo supporto logaritmico questa linea arancione che abbiamo già visto più volte che vi ho spiegato che fa parte di un supporto di lunghissimo termine che parte dal 2008 per la prima volta quindi dopo 3-4 volte che il supporto è stato testato viene rotto e confermato diciamo appunto dalla seconda candela settimanale quindi davvero qui al momento ci troviamo in una situazione completamente nuova ma che ci sta assolutamente profilando questa discesa che è questa onda ribassista di Elliot che avevamo già disegnato alcuni mesi fa vedete proprio da dicembre vedete siamo A, B, C, D e L punto E che è il punto di arrivo più prossimo diciamo di questa onda dopodiché potrebbe esserci diciamo un'onda correttiva al rialzo però ripeto target per il momento siamo intorno ai 10.300-10.200 siamo in questa zona qua quindi siamo in piena area orso questa area rossa qua è la piena area orso e stessa storia vale per l'SP500 ora giovedì usciranno i dati sull'inflazione americana che potrebbero sicuramente dare una forte volatilità ai mercati staremo a vedere che tipo di volatilità però daranno perché potrebbe essere una volatilità davvero poco sana da un certo punto di vista sul fronte Forex continua la sofferenza dell'euro 0,97 continua la forza del superdollaro a 13,489 si riporta guardate qua sul doppio massimo di periodo toccato proprio a fine settembre e soprattutto il mercato delle obbligazioni guardate qua i bond come stanno salendo i rendimenti decennali tornano a 3,94 anche qui vedete di pari passo al valore proprio del dollaro questo movimento dei bond soprattutto continua a rafforzare continua a mettere in crisi in qualche modo l'economia americana anzi dovrebbe mettere in crisi l'economia americana perché siamo appunto in una recessione tecnica vedete come il triennale l'annuale ormai hanno superato il 4% di rendimento in maniera abbondante il trentennale ormai a 3,90 è sotto diciamo tutti gli altri rendimenti ma siamo davvero in una situazione estremamente critica vedremo poi qua quanto riguarda domani i dati giovedì con i dati dell'inflazione cosa uscirà fuori nel frattempo altro campanello di allarme che si è venuto a verificare con il dato del PMI sul dato del PMI pronto questi dati che sono importanti che stiamo seguendo diversi mesi perché sono dei dati che in qualche modo ci divano preventivamente come potrebbe andare l'economia e vedete che il calo di questi due dati il PMI uno dei due PMI questo è il manufattura e questo è il non manufattura sono comunque entrambi diciamo convergenti verso una situazione abbastanza delicata tra l'altro per la prima volta il PMI è sceso sotto i 50 punti e quando si scende sotto i 50 punti siamo in una diciamo recessione più che consolidata quindi questo è un dato di fatto questo quindi un rallentamento dell'economia dovrebbe in qualche modo favorire anche un rallentamento dell'inflazione che è quello che si aspetta la Fed ma per il momento diciamo che sembra che la cosa faccia un pochino più fatica perché il mercato del lavoro questa settimana ha dimostrato ancora di essere forte e questo un po' contrasta con quelle che sono le previsioni della Fed per abbassare diciamo l'inflazione soprattutto per rendere sì che far sì che la Fed sia un pochino più morbida nei suoi aumenti di tassi un mercato del lavoro forte spaventa i mercati perché significa che c'è ancora molta richiesta c'è ancora molta competitività e quindi l'economia è ancora tosta per così dire e questo ovviamente fa sì che i mercati azionari scontino questo tipo di situazioni in maniera abbastanza forte anche andiamo a vederci un po' quello che sta succedendo sulle materie prime il gas naturale americano torna a testare la media 200 periodi 6,67 il gas europeo è in discesa all'1,43% a 154 euro megawattora sono scesi un po' tutti ieri grande balzo del grano che aveva fatto un più 4% guardate qua è andato di nuovo a toccare la media 200 periodi adesso sta un pochino fermandosi guardate il grano che movimento molto molto interessante molto estatecnico sta facendo perché si sta incastrando tra la media a 200 periodi e la media a 21 periodi vedete continua a usare la media a 21 periodi come supporto mentre la media a 200 come resistenza e questo continua a sbatterci un po' contro quindi situazioni davvero interessanti tecnicamente ovviamente giù il loro dopo aver toccato il massimo del suo canale ribassista torna giustamente a soffrire quindi sotto i 1,680 la sua mai livello di galleggiamento che è stato rotto e ritestato più volte prima di parlare delle criptovalute andiamo a vedere un po' quello che è successo quindi su quelle aziende alcune di quelle aziende che sono state indicate insomma come poco sane in qualche modo secondo quella prima scrematura quindi guardando la market cap e guardando un po' anche le btta allora snowflake è una di quelle valore attuale a 159 dollari qui avevamo fatto tanta tanta analisi tecnica sul tempo aveva fatto questa benissima cap and handle che poi non è stato confermato in realtà è stato confermato perché il manico qui si è concretizzato in maniera assoluta e questo era stato assolutamente un bellissimo movimento qui in teoria ci si doveva aspettare un rimbalzo rimbalzo che non c'è stato perché i mercati ovviamente hanno continuato a scendere tra l'altro pur diciamo non essendo diciamo pur avendo un ebtta abbastanza complicato però devo dire che gli ultimi gli ultimi earnings non sono stati così malvagi vediamo se riusciamo a inserire tra l'altro gli indicatori finanziari allora vediamo un po' se riusciamo a inserire qui l'ebtta eccolo qua vediamo un po' se ce la facciamo a inserirlo nella eccolo qua allora vedete come appunto dicevo negativo il fatto che siano così negativi questi ebtta la dice lunga su quanto effettivamente siano affidabili o meno questa tipologia di aziende secondo Michael Berry vedete qui in effetti ci sono gli ebtta su questi siamo a meno 180 milioni meno 136 milioni sono ebtta enormi andiamo a vedere un'altra azienda Netflare allora Cloudfair eccolo qua guardiamo anche Cloudfair vediamo come è messa anche qui guardate qui questo invece è un pochino meglio però vedete che uscì il positivo qui è andato in negativo qui è rimasta un po' galleggiante diciamo che rispetto a tutte le altre quella è messa un po' meglio da un certo punto di vista finanziario se vogliamo metterla così ma anche lei ha sofferto tantissimo Cloudfair andiamo a vedere per esempio spotify vediamo un po' andiamo a vedere anche spotify eccola qua vediamo un po' è finita ecco qui guardate perché è finita nel mirino dell'ultima estrazione diciamo perché l'ultimo ebtda di giugno guardate un po' ha segnato meno 163 milioni è davvero insomma pesante diciamo rispetto a quelli precedenti che erano comunque positivi pur anche qui essendo sotto una certa continuando una certa discesa qui diciamo che quella lista lì andrebbe un attimino scremata non tanto sull'ultimo trimestre ma andrebbe rivista diciamo sull'ebtd annuale magari che sarebbe forse un pochino più corretto da un punto per poter analizzare meglio un'azienda però comunque c'è di fatto che sicuramente l'ultimo trimestre non è stato ottimale infatti vedete che comunque è un'altra azienda che continua a soffrire anche la stessa Shopify che comunque aziende estremamente volatili vedete anche qui Shopify ha fatto meno 127 milioni l'ultimo trimestre quindi anche qui è entrata nel nel triste club diciamo di quelle messe nel milino però ripete il market cap continua ad essere estremamente interessante sopra assolutamente 10 miliardi di dollari ma guardate un po' quanto ha perso Shopify ha perso tantissimo da 171 dollari per share è arrivata addirittura a 26 dollari per share quindi davvero altra azienda che ha perso tantissimo poi Snowflake che forse l'abbiamo già vista vado un attimo a memoria sì mi sembra di sì sì l'abbiamo ben vista giusto l'ho fatto il cap andando scusate andavo un po' di corsa andiamo a vedere NIO ecco l'ultima azienda che una delle aziende che c'era entrata diciamo nella rete dello screener andiamo un po' NIO NIO non ha qua un dato aggiornato ma ci dice che abbiamo un EBITDA intorno ai meno 474 milioni mi sembra un po' eccessivo vediamo un po' probabilmente questo dato qui non è aggiornato bisognerebbe andarsi a vedere il dato finanziario sul bilancio comunque un'altra azienda che sicuramente sta soffrendo tanto e sta tornando su minimi estremamente interessanti da un punto di vista tecnico devo dire e di opportunità di acquisto queste aziende hanno davvero raggiunto dei valori straordinari che forse non hanno ancora finito di scendere ma sicuramente cominciano ad essere davvero appetibili semmai dovessero riprendersi perché poi bisogna capire anche semmai queste aziende si riprenderanno o meno detto questo andiamo a vedere velocemente cosa sta succedendo sulle criptovalute criptovalute che ovviamente non fanno sconti soffrono anche loro anche se devo dire che bitcoin continua a tenere quota continua a tenere massicciamente a difendersi su questa trincea scavata proprio qui intorno ai 20.000 ai 19.000 su cui abbiamo già visto nell'analisi ciclica che questo è il suo il suo ultimo baluardo di difesa rotto questo baluardo di difesa davvero c'è poco da stare allegri perché si scende verso i 17.000 e verso i 13.000 in maniera anche abbastanza pericolosa e molto rapida le cripto le cripto oggi vanno tutte abbastanza male non è che c'è qualcuno che se ne salva perché i mercati ovviamente azionali non stanno andando meglio però c'è da dire che da un certo punto di vista bitcoin si sta un pochino sganciando dall'andamento dell'SP500 sta cercando di contenere questa discesa normalmente bitcoin seguiva l'SP500 con effetto leva x5 x10 ultimamente devo dire che sta cercando di sganciarsi un pochino da questa convergenza che non è male potrebbe davvero muoversi in maniera diversa bitcoin staremo a vedere ci sarà ancora da soffrire almeno per un altro mese e mezzo dal mio punto di vista poi si vedrà un po' quale potrebbe essere il prossimo macro ciclo per quanto riguarda bitcoin che dovrebbe essere leggermente rialzista in previsione dell'alving del 2024 bene per il momento è tutto spero che questo video vi sia stato utile come sempre vi ricordo di scrivere i vostri commenti le vostre richieste sul canale youtube e iscrivetevi anche a tutti gli altri social che trovate qua nei link se ci sono dubbi o altro io sono qua ci sentiamo ai prossimi aggiornamenti stay tuned finger crossed ciao a tutti